Uno dei momenti più attesi nello spettacolo del circo è quando arrivano le bestie feroci, come si diceva un tempo. Bene, noi abbiamo una gabbia che è già stata montata qui al mio fianco, sta per arrivare un grande domatore di origine oxfordiana addirittura, si chiama Amy Smith e a lui sono affidate addirittura degli animali come leopardi e poi jaguari sudamericani e quattro pantere nere. Ora voi sapete che le pantere sono animali veramente feroci, ora io non vi voglio togliere il pathos, mi allontano, vediamo cosa succede sulla pista del Golden Circus con le pantere di Amy Smith. Ecco in pista Emil Smith, domatore di leopardi, pantere nere e jaguari. I domatori di tutto il mondo preferiscono lavorare con leoni e con tigri di mole più importante, ma secondo il loro giudizio meno pericolose. Infatti la pantera nera e il leopardo sono gli unici animali nel creato ad uccidere anche e solo per il gusto di uccidere e non per la sopravvivenza. Questi splendidi jaguari è in un quadro stupendo! Signori, è una gabbia bellissima! Tanti leopardi, pantere nere e jaguari insieme, personalmente li ho visti raramente. Emil Smith viene da una famiglia di domatori. Il nonno di Emil Smith era domatore. Ecco la pericolosissima pantera nera! Signori, vi faccio notare che Emil Smith è armato solamente di una piccola canna di bambù e di un frustino da cavallerizzo. Sittà! Sittà! Berry, sì! Sittà! Egas! Sittà! Right! Grazie! 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 Atenzione! Para, toign! Sittà! No, lo scopro. Sittà! Jump, jump, shoring. Ecco questa è Sonia, la pantera, anzi la leopardina preferita di Emil Smith. Un rapporto di affetto incredibile. Non vuole uscire, lui forse vuole applauso, tutti insieme, fuori, applausi, e siti. Non vuole uscire. Attenzione a questo difficile equilibrio su dei cavi tesi come dei provetti funnamboli. Ed ecco ancora un attacco, cioè di affetto in questo caso. Ok, 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 I love you too. Come on. Ecco. Grazie. Grazie. Uno splendido rapporto di fiducia reciproca tra il domatore e gli animali può creare dei numeri così belli come quello di Emil Smith. Anche se personalmente credo che Emil Smith giochi un po' troppo con questi animali che sono veramente pericolosi. Attenzione signori, la pantera sul collo. Questo è un esercizio estremamente pericoloso. completamente disarmato, ha portato degli artigli del leopardo. Grazie. 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 la pantera nera non rinuncia in nessun momento alla sua ferocia splendido Emil Smith ed ora signori attenzione Emil farà da sgabello al salto della pantera nera bellissimo attenzione ecco la pantera attento Emil 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 Smith signori Emil Emil Grazie.